L'obiettivo di questa tavola è quello di ragionare su a che punto siamo, tant'è che appunto il titolo è digitalizzazione e sanità, a che punto siamo e vorrei proprio partire da qui per fare un primo giro con tutti voi, e cioè abbiamo parlato molto di nuove tecnologie, intelligenza artificiale, dei dilemmi etici sul fatto che l'intelligenza artificiale ci sostituirà, quali sono i pericoli, gli scenari futuri, però insomma torniamo un attimo nel 2024, gennaio 2024, qual è in questo momento la situazione della digitalizzazione in sanità? Allora, iniziamo da Colli Franzone. Sì, grazie. Solo un passaggio, perché mi sono evitato prima di fare un intervento, nel senso che avevo un'osservazione da fare. Siamo nel presente, io sono uno che di mestiere scrive libri sul futuro e quindi mi piaceva la tavola prima. No, sicuriamoci, però rispetto al panel precedente avevo solo una piccola osservazione da fare rispetto agli interventi, cioè è tutto molto bello, noi dobbiamo passare dal curare la patologia al curare la persona, ricordiamoci, e qua purtroppo abbiamo ancora avuto questa mattina, poi a parte il matrimonio, ma vedremo poi se davvero il matrimonio ci sarà, la pace di questa mattina sarà fatta davvero. Abbiamo comunque un problema, cioè nulla di tutto quello che potremmo oggi fare usando le tecnologie per curare le persone e non le patologie può piacere oggi al garante della privacy. Noi abbiamo in questo momento un enorme problema da questo punto di vista e questo è un fattore limitante e importante di cui dobbiamo tenere conto. Detto questo ritorno nel panel e rispondo a che punto siamo. Beh, intanto, dunque dal punto di vista di digitalizzazione della sanità italiana, sia pubblica che privata, non facciamo differenze, devo dire che la situazione è comunemente, ci è anche comunemente riconosciuto all'estero, una situazione che è molto interessante dal punto di vista di quante cose abbiamo, quanti processi abbiamo già digitalizzato nella sanità. Spendiamo poco in tecnologie informatiche digitali sanitarie rispetto ad altri paesi, ma questo è un altro problema, questo è un problema derivante soprattutto dagli eccessi di ribasso nelle gare di appalto, eccetera. Però in termini di quantità, cioè se la potessimo pesare in chili, le tecnologie digitali sanitarie oggi negli ospedali o nelle strutture territoriali un pochettino o meno, ma adesso le avremo e quindi arriveremo anche lì con i fondi PNRR, però tutto sommato di tecnologie digitali ne abbiamo. Ne abbiamo tante, così come abbiamo già, ed è anche questo già stato detto questa mattina, abbiamo già tutto sommato abbastanza anche intelligenza artificiale per rimanere sul tema principale di questa giornata, cioè l'intelligenza artificiale è già utilizzata, non quella generativa, è già utilizzata molto in sanità, in radiologia, in diagnostica per immagini, ormai praticamente tutti i grandi produttori di apparecchiature diagnostiche hanno portato a bordo delle loro macchine gli algoritmi che ti danno le evidenze principali per cui non si sostituiscono assolutamente al radiologo o al refertatore, non ci mancherebbe altro, non c'è nessuno che vuole sostituire gli uomini, ma mettono semplicemente delle belle freccettine che vanno a dire guarda, io posso in te prima di incominciare a guardarla in generale, incomincierei da qui perché qui vedo una cosa interessante, questa roba qua esiste già, così come esistono parecchie altre applicazioni interessanti. L'elemento dirompente è quello dell'intelligenza artificiale di tipo generativo che può fare molte cose ma deve ancora dimostrare di saperle fare, di riuscirci e di trovare anche un modello di business che non è in questo momento un dettaglio da questo punto di vista. In estrema sintesi però alla tua domanda appunto la risposta è bene la situazione di partenza, la classe attuale sia dei manager delle direzioni strategiche, abbiamo sentito due direttori generali digital entusiasti prima ma non sono i soli per fortuna, ormai ce ne sono tanti e anche qua il rinnovo dell'arrivo delle nuove generazioni aumenterà questo numero, abbiamo molti medici che apprezzano le soluzioni digitali, ecco qui mi sento di dire ancora una cosa così chiudo sull'elemento che io in questo momento vedo come criticità noto e io faccio un mestiere per cui parlo con i medici praticamente tutti i giorni, noto, parlo ovviamente di sanità digitale, una cosa che noto è una certa seccatura dei medici, ecco ritorno alla cosa di stamattina del garante, quando l'avvocato scorso diceva mi sono seccato, fondamentalmente tradotto in italiano, hanno detto mi sono seccato perché nessuno mi aveva avvisato prima, i medici molto spesso quando parli di sanità digitale dicono certo sarebbe bello che chi progetta le soluzioni di sanità digitale parlasse prima con noi per farsi raccontare esattamente di che cosa abbiamo bisogno, cioè se c'è una discrasia in questo momento è proprio questo. Tutti volevano essere avvisati prima, quindi tutti non vogliono essere avvisati prima. Bene, Orsini, che punto siamo? Allora buona sera a tutti, funziona spero. Sì, sì. Allora mi ero scritto un paio di cose, dal punto di vista della digitalizzazione diciamo che le sfide per noi come aziende sono a due livelli essenzialmente, una verso l'interno e porta un po' alla nostra esperienza dove abbiamo delle persone, dei team dove l'età media adesso è sopra i 50 anni più verso i 60 e questo a volte non aiuta nel raggiungere rapidamente quei percorsi, quei processi appunto come dicevamo di digitalizzazione perché a volte succede che l'iPad viene visto non come uno strumento che aiuta nel nostro lavoro, chiaramente non è solo una questione di età ma i nativi digitali hanno sicuramente dei vantaggi, quindi nel far passare che questi sono degli strumenti che ci possono aiutare e supportare nel nostro lavoro prima di tutto. Dall'altro abbiamo un obiettivo da raggiungere con quelli che sono dei clienti esterni, nel nostro caso la classe medica, quindi stiamo cercando di introdurre tutta una serie di strumenti che ci aiutino in questo tipo di relazione e stiamo anche cercando di costruire tutti quei supporti, quei servizi che ruotano un po' attorno al farmaco, che possano aiutarci e sì nella relazione ma anche supportare il sistema in questo momento di grande cambiamento. Stiamo cercando anche un dialogo con le persone, cioè gli esterni, quelli che non vivono quotidianamente le problematiche del sistema sanitario per portare un po' alla luce, alla conoscenza di tutti alcuni elementi che magari sfuggono. All'interno di questo uno strumento che stiamo utilizzando in Healthverse, che è la nostra piattaforma se avete voglia di entrare a www.healthverse.recordati.it dei momenti di dialogo che coinvolgono personaggi del settore ma parlando di tematiche un po' trasversali. Faccio un esempio, abbiamo delle lecture, in una di queste era ospite scorza ed altre persone. Si è parlato un pochettino di dati sintetici, di etica e di tutela della privacy, che sono non materie scientifiche in quanto tali ma che impattano la ricerca e che impattano la nostra quotidiana di task. Quindi stiamo cercando anche attraverso dei sistemi nuovi, degli strumenti nuovi di avvicinarci non solo a chi è nel settore ma anche a chi non è un addetto ai lavori. Bene, grazie. Bevini, Bayer. Buonasera a tutti. A che punto siamo in sanità? Siamo dal mio punto di vista in un momento estremamente stimolante, un momento in cui siamo osservatori privilegiati ma allo stesso tempo siamo anche protagonisti con delle responsabilità nel vivere e guidare al meglio quella che ha tutti gli effetti una vera e propria rivoluzione industriale. È stata più volte citata l'incredibile l'opportunità che oggi ci dà l'intelligenza artificiale. In particolare i large language models rendono questa tecnologia incredibile alla portata di tutti, anche a chi come me di programmazione e di algoritmi conosce veramente poco. Questo apre delle opportunità incredibili. Anche se non sono un esperto mi piacerebbe fare con voi alcune considerazioni su quello che oggi è l'intelligenza artificiale generativa, quindi i vari chat GPT che è sicuramente il più famoso. Abbiamo visto che sono strumenti con una potenzialità incredibile e con delle capacità sorprendenti. Sono dati come modelli per rispondere in maniera generica ai nostri requisiti ma hanno delle verticali tecniche specifiche su alcuni ambiti estremamente specialistici come la medicina, come il diritto e tantissimi altri. Parallelamente a questo hanno dei costi estremamente contenuti. È raro che delle tecnologie così avanzate siano così anche facilmente accessibili dal punto di vista economico. Nel campo terapeutico è molto raro che una tecnologia estremamente avanzata abbia costi così arrisori. Ma c'è anche un ma. Presentano delle aree grigie, presentano delle aree che sono state definite di opacità. Alcuni compiti vengono svolti in maniera impeccabile. Altri compiti che invece sono difficilmente prevedibili vengono svolti con delle aree che possiamo definire di ambiguità. L'ambiguità e l'errore è qualcosa che è molto pericoloso in alcuni ambiti, molto pericoloso soprattutto nell'ambito della sanità. Questa opacità va a creare quella che è stata definita da diversi studiosi una frontiera tecnologica. frontiera all'interno della quale l'intelligenza artificiale performa in maniera sovraffina. Al di fuori di questa invece è ambigua. Per questo è fondamentale sviluppare cultura, sviluppare competenze ed educare su qual è questa frontiera e comprendere come può essere navigata in maniera virtuosa. Bisogna sviluppare competenze per poter appunto navigare la cresta di questa frontiera dove l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale riescono a ottenere e dare il meglio di sé. È per questo motivo che come Bayer promuoviamo attività di formazione e di collaborazione tra il management sanitario, il servizio farmaceutico regionale e start-up innovative in questo ambito dove viene affrontata e si discute insieme l'incredibile opportunità di poter integrare gli strumenti di intelligenza artificiale negli attuali processi esistenti e ci si confronta e si crea insieme nuovi processi basati sull'intelligenza artificiale stessa. Quindi per concludere, a che punto siamo? Anche al costo di andare un pochino controcorrente siamo al punto in cui è l'intelligenza umana, a mio avviso, intesa come la capacità di collaborare, di generare sinergie, di andare oltre i luoghi comuni che acquisisce un valore e un ruolo fondamentale nel creare una sanità, certo, un pochino più digitale ma che sia sempre inclusiva, sia sempre umana e sia sempre universale. Grazie. Grazie. Poi vorrei fare un giro, abbiamo diversi giri e vorrei fare uno sulle competenze. Pompilio, qual è il vostro punto di vista rispetto a quello di cui stiamo discutendo? Il vostro, che ripeto, di Johnson & Johnson. No, pensavo al plurale maiestati se la stavo ringraziando. Allora, grazie a tutti, grazie dell'invito e soprattutto ritengo doveroso, almeno da parte mia, per come ho vissuto l'intera giornata, un ringraziamento all'organizzatrice, a Felicia Pagalli, perché la conduzione è stata, a mio avviso, egregia. Il dubbio che avevo quando sono stato contattato, lo manifesto senza remora, è che si atterrasse a un qualcosa per cui digitale significa telemedicina, teleconsulto, invece, come ha detto lei, questo rischio che potesse essere rinfrescato un po' con una spalmata di sale, ripeto bene, si è evitato e quindi di questo ne sono assolutamente grato, anche perché sarei stato improprio come relatore in un contesto in cui di digitale in realtà ci capisco poco e niente. Per oggi ho osservato un aspetto che stimolo. Io ho avuto il percepito che digitale sia stata oggi la lente di ingrandimento che ha messo in evidenza problemi o, meglio, opportunità, si è utilizzato un termine che mi piacciono tanto prima, di ecosistema. Allora, probabilmente oggi sempre di più noi tutti, tutti, e sottolineo tutti tre volte, dobbiamo leggere l'opportunità appunto di lavorare insieme, lavorare come ecosistema, in un sistema in cui tutte le parti devono avere un intervento bilanciato, perché l'ecosistema si sostiene nel momento in cui tutti hanno un ruolo e tutti possono tornare utili agli altri. Non è per niente scontato ottenerlo. Questo è l'esercizio su cui probabilmente tutti ci dobbiamo impegnare di più. Se il tutti lo vogliamo sintetizzare, poi alla fine tutti significa pubblico e privato. pubblico e privato, l'ideale sarebbe, come dire, rendere un po' in italiano il termine strabusato di partnership, perché non so, ma io penso che dappertutto sentiamo utilizzare partnership. A me piace l'italiano, mi ritengo un umanista, visto che mia mamma mi ha obbligato a fare liceo classico, e quindi per me partnership significa scambio tra pari. Quindi il concetto di sedere a un tavolo, mettere a fattore comune non solo la componente economica della sponsorship, ma proprio le competenze, per arrivare a un qualcosa che serve anche e soprattutto al privato, che ha una natura giuridica anche differente dal pubblico. Noi ne siamo consapevoli. Quindi sappiamo come sederci a questo tavolo e sappiamo anche di poter tornare utili a questo tipo di confronto. Quindi digitale per noi significa soprattutto cercare di catturare un qualcosa che nella sanità a tendere, oddio, per quello che ho sentito oggi non è più a tendere, ma è la sanità di ieri, è cercare di capitalizzare i dati per l'ottimizzazione, ma Antoine stamattina parlava di programmazione, anche per noi quei dati servono per programmare al meglio quello che è la messa a terra della nostra tecnologia che si chiama farmaci. Senza quei dati, noi oggi abbiamo purtroppo già evidenze di diverse situazioni, ne menziono una che è la più paradossale, le CAR-T, il massimo dell'innovazione tecnologica, che oggi esprime il 10% del proprio potenziale, proprio perché probabilmente i dati che c'erano a disposizione non sono stati messi a disposizione di tutti quelli che sono stati gli attori del sistema. È un gran peccato. Quindi, perché, cioè, solitamente sbagliare significa anche imparare dagli errori. Stamattina mi ha colpito molto un altro aspetto, e penso che ce l'abbiamo un po' più o meno tutti. Ma Antoine parlava di programmazione. Peccato che c'è poi stato, Marsella, a livello europeo, che ci richiama un po' al senso d'urgenza. Sapete come l'Italia ha risposto ad oggi al senso d'urgenza in generale? Col Covid. Il Covid è stato il nostro senso d'urgenza. Grazie al Covid noi abbiamo potuto intervenire, a quel punto abbiamo saputo lavorare i dati. Peccato che Marsella stessa ci dice che i dati che avevamo a disposizione erano dati sporchi, e probabilmente se ci fosse stata programmazione anche nella cattura dei dati, e nella messa a fattore comune dei dati, avremmo avuto un prodotto finito migliore. Quindi per noi i dati sono l'essenza. Sempre di più sarà così. Il mondo del farmaco non è più fatto solo di efficacia e tolerabilità. Ce lo insegna l'HTA a livello europeo. Sempre di più noi abbiamo tecnologie e processi. I processi per noi sono essenziali per far sì che l'innovazione, si è parlato di innovazione, si è parlato di aziende, mi faceva sorridere come nella descrizione degli aziende, io mi ci rivedevo in pieno. Perché le aziende devono far sì che l'innovazione si manifesti. È tal quale quello che accade nel privato. Ripeto, natura giuridica differente. Situazioni e opportunità che sono esattamente le stesse. Quindi da parte mia lo stimola a far sì che quello che non è un convegno, grazie anche per questo, ma è un percorso, continui su questo indirizzo. Nei limiti del possibile, cercando di coinvolgere, c'è stato il dottor Pietralia che menzionava 200 direttori generali. Io qui devo fare un'altra mozione. Siete sempre i soliti, nel senso che siete, non a caso i sapiens, sarà utile anche avere e cercare di coinvolgere una pletora di direzioni generali per far sì che il privato non venga vissuto come un qualcuno che sta lì e va tenuto a distanza. Perché abbiamo tanto da offrire e soprattutto tanto da ottenere insieme. Bene, grazie. A proposito, mi collego a questo suo ultimo intervento per il secondo giro, ovvero quando lei parlava di partnership, che non le piace tanto per gli studi classici che ha fatto, ma per l'idea di una collaborazione. L'abbiamo visto, e questo è diventato dibattito anche diffuso nell'opinione pubblica della collaborazione pubblica e privata. Chiaramente durante il Covid ci siamo ritrovati in emergenza, quindi i servizi sanitari nazionali e non solo, comunque le istituzioni hanno dovuto collaborare con le aziende per uscire il prima possibile dalla pandemia. E da lì, insomma, si è un po' sancito, c'è stata una sorta di big bang rispetto al fatto che adesso non solamente in emergenza, ma anche in maniera più strutturale si possa collaborare in maniera virtuosa tra pubblico e privato. Ecco, sempre per tornare alla domanda di questo panel, a che punto siamo? E lì, da quel punto di vista, a che punto siamo nella collaborazione pubblica e privata? Cambiamo il giro e ricominciamo da lei, Pompilio. Grazie. Così però mi sembra un soliloquio, quindi non so... Poi sarà silente per un po'. Allora, grazie. Grazie per la domanda, perché è la domanda del settore privato. Qui c'è da dire che noi abbiamo, come azienda, ricevuto un grande supporto da persone tipo il dottor Casati, il dottor Petralia, ce ne sono, ripeto, ahimè girano sempre gli stessi nomi, perché ci hanno aiutato anche a stabilire quello che è un framework normativo-operativo di collaborazione pubblico-privato. È l'elemento più determinante, quindi non basta identificare quelli che sono i bisogni comuni, oppure le soluzioni necessarie per far sì che questi bisogni vengano soddisfatti. A volte ci troviamo all'interno delle aziende a dover superare quelli che sono dei vincoli, la chiamiamo compliance, non riesco a tradurla nell'immediato, ma ci riesco forse alla fine. Quindi bisogna soddisfare tutta una serie di bisogni interni, vi faccio un esempio tra tutti. La provocazione che ci ha lanciato più volte oggi il direttore Giorgio Casati è quella di ok, piuttosto che pensare di fare le robe in maniera sistematica e statistica in grande, partiamo, cominciamo a fare delle cose, cominciamo a rendere evidenti che le cose funzionano per poi ipotizzare anche la replicabilità e la scalabilità degli stessi. Beh, questo è qualcosa che ci aiuterebbe tanto, perché come aziende noi abbiamo anche l'obbligo di rispettare cosa? Noi non ci vogliamo né ci possiamo sostituire al mondo pubblico. Quello che possiamo fare è favorire una collaborazione per far sì che in maniera puntiforme, in maniera capillare, si vadano a verificare delle situazioni in cui possiamo lavorare insieme, possiamo ottimizzare, a quel punto trovata la soluzione la affidiamo al pubblico perché venga fatta una corretta valutazione di replicabilità e scalabilità. Quindi, per rispondere, è l'elemento determinante la quantità di collaborazione pubblico-privato che si possono esprimere nel tempo ed è un qualcosa su cui anche qui chiediamo una collaborazione, spesso la soluzione migliore è mettere a confronto i legali del pubblico, i legali del privato, unirci e tirare giù dei contratti che rispettino i bisogni delle parti. Borzini. Allora, per quanto riguarda le partnership o collaborazioni, dal nostro punto di vista abbiamo lavorato anche qua su due livelli cercando appunto attraverso la nostra piattaforma Healthverse che rappresenta un po' lo spazio dove siamo andati a sperimentare l'idea di Ricordati di Digital Health abbiamo avuto l'opportunità di creare delle partnership a livello nazionale sia con players del sistema sanitario che con quelli dell'innovazione e grazie a queste collaborazioni si è generata appunto quella che è la partnership che è stata già citata dal nostro general manager stamattina con NLX che ha sviluppato una piattaforma di monitoraggio a distanza che però è stata un po' customizzata su alcuni filoni che sono appunto il cardiovascolare l'urooncologico pediatrico quindi sposando un po' l'opportunità della piattaforma con quelle che erano un po' i filoni come dire aziendali dall'altra ci sono state delle partnership con delle start up che hanno generato per esempio stanno generando svilupperanno dei sistemi di messaggistica che rispondono un po' di più alle esigenze che abbiamo oggi di dialogo fra il medico l'HCP e il paziente quindi il farmacista e il paziente che sia però un dialogo che sia da una parte tutelato dal punto di vista privacy e dall'altro sicuro quindi si sta lavorando con questo obiettivo per ultimo ma non ultimo sta partendo una partnership con grandi gruppi ospedalieri per quella che è la digital therapeutics quindi anche da questo punto di vista si sta un po' lavorando però volevo riprendere un tema che anche questo è stato un po' sfiorato stamattina ma anche prima dal direttore Casati che è il partire un po' dal basso e anche qua stiamo cercando di avere tutti in tutti i business in tutte le opportunità che ci arrivano di creare di co-creare delle soluzioni ecco che non partano da Milano o da Roma ma che partano da quella che è l'esperienza che viviamo sul campo anche qua porto un esempio prima di offrire una soluzione che stiamo studiando per la cardiologia nello specifico siamo partiti nel raccogliere i bisogni di quei 5.000 cardiologi che vediamo ogni giorno cercando chiaramente di farli un po' confluire per capire qual è lo strumento qual è l'elemento di cui oggi loro dal punto di vista digitale potrebbero aver bisogno questo insomma bene grazie Bevini pubblico privato sì ma io vorrei partire dal tema che è uscito più volte che quello dell'innovazione perché comunque le aziende farmaceutiche vivono di innovazione ed è un tema importantissimo per Bayer è talmente importante l'innovazione che ha deciso di metterlo al centro della sua strategia di accesso al mercato tanto che la divisione a cui appartengo prende il nome di Market Innovation Access l'innovazione per noi parte da una profonda conoscenza del contesto di riferimento sviluppato ormai in più di 120 anni di presenza attiva sul territorio italiano unita alla profonda consapevolezza che le cose possono e devono cambiare per la sostenibilità del sistema e per il bene della salute di tutti la digitalizzazione ne abbiamo parlato a lungo il potenziale della digitalizzazione è enorme così così come è anche enorme il rischio che se questo importantissimo tema venisse trattato in maniera superficiale possa generare delle diffidenze e delle resistenze e qui vengo alle partnership o alle collaborazioni tra pari per evitare questo Bayer si è resa promotrice di un'attività che prende il nome di Dico Sanità digitalizzazione collaborativa in sanità dove ci siamo resi facilitatori di un percorso di collaborazione fattiva a più livelli del sistema salute con l'obiettivo di generare innovazione non solo terapeutica ma anche tecnologica per tutto l'ecosistema salute in una logica di co-creazione con l'obiettivo di generare valore al sistema e al paziente chiaramente non l'abbiamo potuto fare da soli abbiamo coinvolto un board di esperti e ho l'onore di poter dire che hanno fatto parte di questa straordinaria avventura anche il dottor Casati e il dottor Petralia che sono qui presenti il board ha lavorato in maniera intensa in tutto il 2023 andando a definire quelli che possono andando a definire quelli che possono essere possiamo chiamare tranquillamente dei punti cardinali proprio delle direttrici che sono l'organizzazione e i processi la regolamentazione gli standard di riferimento le infrastrutture la gestione dei dati e la cultura del cambiamento e secondo me proprio la cultura del cambiamento è uno di quelli temi più affascinanti e anche qui il board ha dato il meglio di sé andando a distillare una ricetta che vede come ingredienti principali la collaborazione e la contaminazione unita ad attività di informazione e di formazione ed è proprio da qui che come Bayer ripartiremo nel 2024 dando continuità all'esperienza di Dico Sanità tramite iniziative non più a un livello nazionale ma a un livello più locale a un livello più regionale genereremo daremo vita dei regional summit dove verranno affrontate grazie comunque sia ai punti cardinali definiti del board tutte queste attività cercando di dare concretezza nel contesto locale e regionale grazie Quali Franzone sì io ho un'esperienza di partenariato pubblico privato che volevo provare a condividere e vi racconto perché qualche criticità c'è stata 7-8 anni fa un direttore generale un vostro collega direttore generale dell'azienda sanitaria per la precisione l'azienda sanitaria era l'alto adige direttore generale Thomas Shell mi chiama per dire aiutami a montare un'operazione di partenariato pubblico privato voglio trovarmi un socio privato costruiamo insieme una società dove la maggioranza è dell'azienda sanitaria e la minoranza del panno privato per trovare un operatore insieme al quale costruire il nuovo sistema digitale e lo chiamiamo e lo chiamammo digitale non sistema informativo perché sistema informativo sapeva di facciamo una cosa vecchia per l'alto adige la maggior parte del tempo che passamo a questo punto col senno di poi meno male che lo facemmo ma inizialmente io facevo veramente fatica a capire la maggior parte del tempo che passamo nella preparazione di questa operazione fu andare a trovare in audizioni preliminari la corte dei conti perché poi è tutto bello è talmente tanto tutto bello che il partenariato pubblico privato è perfino riconosciuto nel codice degli appalti quindi non è una cosa che non si può fare si può fare è tremendamente maledettamente complicato a meno che non sia un'operazione semplicemente di project financing che allora lì costruiamo un ospedale si fa alla stragrande se ne fanno in continuazione ma invece un'operazione che è finalizzata a creare dei servizi creare una piattaforma digitale con un socio privato dove fondamentalmente quello della corte dei conti ogni tre parole che tu gli dici ti dice ma perché non fai una gara d'appalto al massimo ribasso e tu cerchi di spiegarglielo ma non funziona perché poi la mentalità è tutto bello il direttore generale è capace di pensare eccetera eccetera poi alla fine c'è sempre qualcuno all'interno delle vostre aziende che alza la manina e dice ma perché non facciamo la gara al massimo ribasso che aiuta perché alla fine non ci abbiamo le grane perché poi il problema vero cioè se da una parte noi abbiamo il fenomeno della medicina difensiva quindi del fatto che i medici siano ostaggio molto spesso degli avvocati dall'altra parte c'abbiamo anche il tema il problema della burocrazia difensiva all'interno della pubblica amministrazione ma perché ma perché mi devo fare del male perché Ferrazza mi ha detto che devo fare il partenariato pubblico privato quindi questa è una cosa di nuovo qua è di nuovo un altro momento in cui è necessario cambiare marcia ma ci sono differenze cioè quello che succede all'estero è diverso? allora quello che è successo durante il covid è stato diverso perché c'era il covid e allora valeva tutto valeva talmente tutto che scorza non si disturbava più di tanto quando si facevano perfino le televisite con zoom che in tempi normali moriva di infarto poveraccio siccome durante il covid valeva tutto allora ha incominciato a valere anche l'operazione di parliamo con i privati perché dobbiamo correre a risolvere un problema manteniamo la alta questa tensione cioè facciamo che il covid è finito e va bene perfetto ma apprendiamo le lezioni manteniamo questa tensione questa voglia di provare a cambiare davvero anche la testa la mentalità ecco su questo se avete magari degli spunti dal vostro punto di vista soprattutto le aziende che operano anche all'estero se all'estero è più semplice o più complicato fare partenariato pubblico privato non so nel caso specifico di Bayer all'estero è più semplice perché è molto semplice fare partnership con il pubblico nel momento in cui ci sono attività di ricerca e sviluppo nel caso di Bayer la ricerca e sviluppo viene fatta da Ledwater che è in Germania e tutta la parte di partenariati pubblico privati viene gestita in altri luoghi quindi diventa complicato per in questo caso la parte di Bayer che sta in Italia poter promuovere attività di questo tipo questa è un po' la difficoltà che abbiamo riscontrato noi come azienda allora ci hanno raggiunto sono ritornati gli altri gli altri due componenti dottor Ferrazza posso posso approfittare le due e della dottoressa perché visto che li vedo parecchi operativi un esempio concreto di partnership pubblico privato già in essere che sta esprimendo forse l'1% del suo potenziale tutte le aziende stamattina si è parlato dell'agenzia di AIFA noi abbiamo i registri soprattutto per tutte quelle terapie che sono le più innovative praticamente nulla viene restituito da quei registri lei si immagini quanto da quei registri se ci fosse vedo la faccia se ci fosse un approccio un po' più strutturato e intenzionato a restituire al sistema quanto quei registri raccolgono sarebbe ci sarebbe un cambio importante per tutto quello che è innovazione in divenire perché molte di quelle terapie segnano la strada delle successive volevo dare un elemento concreto che a quel punto non è di parte ma è di tutto quanto il sistema che può tornare utile come sfida da raccogliere ok ok salve ci stringiamo come nelle migliori famiglie ok allora però allora abbiamo viaggiato un po' nel futuro Borghini allora recuperiamo un attimo con lei il primo giro i primi due giri con cui abbiamo di cui abbiamo parlato finora e la prima domanda è prendo spunto dal titolo di questo panel digitalizzazione in sanità a che punto siamo qual è il suo punto di vista io porto il punto di vista dell'agenzia che come sapete diciamo nell'ultimo anno ha acquisito anche le funzioni di agenzia di sanità digitale e si sta occupando anche dell'attuazione di alcuni interventi del PNRR finanziari del PNRR quali la telemedicina appunto l'intelligenza artificiale di cui vi ha parlato questa mattina il dottor Mantoan e il portale della trasparenza adonasse anche sta lavorando con il ministero della salute e con il dipartimento della trasformazione digitale anche come supporto alla parte del fascicolo sanitario elettronico e quindi in quello che sarà poi l'ecosistema dei dati sanitari a che punto siamo in questo momento in questo momento sulla parte telemedicina posso dirvi che abbiamo raggiunto il target europeo che era di un progetto per regione era un target appunto europeo per cui a questo target sono legati anche i fondi della tranche prevista per dicembre scorso e tutte le regioni con il supporto di Agenos hanno sviluppato un loro progetto regionale questo progetto regionale consta di una programmazione in termini di servizi legati all'erogazione della telemedicina quindi quando parliamo di servizi intendiamo sia la parte software quindi tutti quegli applicativi che servono per erogare la televisita la teleassistenza il telemonitoraggio e la parte hardware quindi anche in termini di postazioni di telemedicina questa programmazione regionale è stata poi associata ad una programmazione in termini di modelli organizzativi in tutte le regioni hanno definito attraverso un atto regionale quali sono le modalità attraverso cui integrano i servizi di telemedicina all'interno dei propri servizi e allo stesso tempo grazie ai fondi del PNRR è stata definita quelle che sono anche in gergo che potete trovare come IRT infrastrutture regionali di telemedicina che andranno a che sono poi piattaforme cosiddette software che è acquisita attraverso la gara di regione Lombardia che andrà attraverso cui le regioni andranno a derogare servizi telemedicina allo stato attuale sostanzialmente 13 regioni andranno ad acquistare tutti i loro servizi software dalla gara di regione Lombardia 5 regioni andranno ad acquistare parzialmente alcuni di questi servizi e 3 regioni andranno ad adeguare quelle che sono le proprie infrastrutture già presenti a quelle che sono le linee guida definite da Agenos Dipartimento di trasformazione digitale e Ministero della Salute nel decreto interministeriale del 21 settembre 2022 questo diciamo in termini di programmazione considerate anche che a livello invece di infrastrutture di postazioni di telemedicina le regioni hanno espresso un fabbisogno di circa 90.000 postazioni quindi attraverso questi servizi verranno erogati i servizi di telemedicina e il 2024 sarà l'anno della messa a punto e dell'integrazione della piattaforma nazionale che è quella che invece ha sviluppato Agenos nel corso del 2023 attraverso una gara di partenariato pubblico privato quindi ci sarà nel corso di quest'anno del 2024 l'integrazione tra le infrastrutture nazionali di telemedicina che è questa piattaforma nazionale di telemedicina e le infrastrutture regionali sia acquisite attraverso la gara di regione Lombardia sia che le regioni che hanno la propria e andranno integrandosi diciamo si costituirà il cosiddetto diciamo l'infrastruttura nazionale di telemedicina e tutto questo ovviamente sarà il primo step il primo punto di partenza per far sì che poi il sistema diventi effettivamente funzionale e che si si possa poi utilizzare quindi diciamo il 2024 sarà l'anno in cui tutti questi investimenti dovranno essere messi insieme e dovranno iniziare a parlarsi detto in maniera molto molto semplice mentre la seconda domanda su cui avevamo ragionato era rispetto alla partnership pubblico privato dal vostro punto di vista se siamo se siamo a buon punto se la strada è quella giusta partnership pubblico privato rispetto proprio alla alla progettazione insomma dei sistemi dei sistemi sanitari del servizio sanitario ma il lavoro diciamo tra pubblico e privato soprattutto quando si parla di innovazione è molto importante nel senso che se inserito all'interno dei dei contesti giusti e come abbiamo fatto diciamo la piattaforma nazionale di telemedicina a mio avviso è un esempio di come la partnership pubblico privato possa funzionare nel senso che soprattutto in questi contesti in cui c'è bisogno di una forte spinta innovativa e c'è bisogno di un diciamo di cioè spesso competenze che non sempre si riescano a trovare nel pubblico non perché non ci siano persone competenti ma perché spesso diciamo non è non è facile stare così al passo con l'innovazione la collaborazione tra pubblico e privato può essere sicuramente un'opportunità per il pubblico ecco bene allora visto che ci hanno raggiunto anche in corsa dopo che erano stati con noi prima sia a Casati che Petralia avendo ascoltato quello che abbiamo detto avete cose da aggiungere magari non tanto sulla prima parte su cui qualche modo avevamo già risposto nel primo panel quanto più sulla seconda sulla parte sulle forme di partnership che ci sono con le aziende private certamente sì allora vabbè solo un passaggio perché se ne ho prima il dottor Corri Franzoni parlava insomma del dubbio che il grande della privacy possa gradire questo passaggio la presa in carico della patologia e la presa in carico della persona posso dire in modo molto rozzo cioè voglio dire il garante ce l'ha spiegato prima l'avvocato Scorza applica le leggi le leggi sono scritte dalle persone e non dal garante quindi se il percorso di andare verso è già stato verso un piano individuale verso la cura della persona non lo dico io che sono uno scienziato com'è che ci hanno definito i sapiens i sapiens no ma è già scritto nelle norme di programmazione della del nostro sistema sanitario forse bisogna specificare meglio nel dal 77 il concetto di stratificazione come si fa? ok sono assolutamente d'accordo cioè una delle cose che appunto dicevo mancano è proprio quello di lavorare sui passi successivi cioè non si può lasciare in un DM 77 una serie di concetti come se questi si potessero sviluppare autonomamente come se l'innovazione fiorisse spontaneamente nelle aziende generando dei comportamenti che si adattano a quelle che sono le attese generate da un decreto ministeriale non funziona così quindi il decreto ministeriale definisce delle regole entra nel merito di alcuni aspetti quindi se si va verso un percorso individuale banalmente almeno mi dà una definizione no? cioè mi dice devono essere c'è almeno due patologie e il percorso individuale è implementato se è stato scritto oppure se viene effettivamente fatto e come faccio verificare se è effettivamente fatto quindi comincio a definire dei KPI delle misure cioè comincio a rendere una cosa concreta dopodiché le aziende si organizzano e lo fanno perché non lo devono fare anzi sarebbero già pronte per farlo quindi mancano dei pezzi su cui occorre lavorare non si può lavorare solo sugli aspetti strutturali o sugli aspetti tecnologici ma proprio sui processi di cambiamento questo ritorno a dirlo poi il garante se una certa cosa oggi non si può fare perché c'è una norma che contrasta voglio dire abbiamo chi scrive le norme che se vuole ottenere quel risultato cambia le norme cioè a un certo punto non è che si può chiedere ad un soggetto di disapplicare le norme si può chiedere di applicare delle norme e se le norme non vanno bene si cambia detto questo partnership pubblico privato per me è è stato è sarà essenziale no? perché le aziende sanitarie adesso parliamo di quella partnership dove la partnership non presuppone che si sviluppino dei rapporti economici tra i soggetti che entrano in partnership sull'oggetto della partnership perché interessi economici ci sono sempre ok? in una partnership l'importante è che se viene da me uno di questi signori mi propongono una partnership dove l'oggetto non è quello vendere ecco perché se è vendere quella cosa che dobbiamo sperimentare diventa un po' difficile e allora capisco che bisogna fare legare al minimo ribasso o evitare che poi la corsa dei conti però siccome è possibile no? che diverse aziende in natura diversa quindi aziende pubbliche aziende private abbiano delle finalità comuni abbiano delle intenzioni che si sovrappongono e quindi un terreno su cui lavorare assieme se questo accade è una ricchezza formidabile perché un'azienda per cambiare ma non un'azienda un organismo biologico per cambiare deve bruciare delle energie questo ce n'ha insegnato la storia dell'evoluzione e queste energie se non le hai non evolvi no? le aziende sanitarie le energie per evolvere non le hanno hanno le energie per funzionare nell'ordinarietà dopodiché possono avere le competenze per poter promuovere dei processi di cambiamento ma non è detto che abbiano le energie quindi il fatto che queste energie vengano messe a fattore comune attraverso un processo di partnership per me è un elemento di una ricchezza straordinaria dopodiché c'è il problema dei sapiens e non è che gli altri sono minus sapiens sono tutti bravi i direttori generali poi qualcuno ha una propensione più spinta in una direzione altri in altre allora a questo punto forse c'è un problema di modello che è sbagliato no? cioè l'idea di una partnership one to one forse è un'idea superata nella fase attuale l'idea che un'impresa si metta d'accordo con un'azienda sanitaria pubblica per sviluppare qualche cosa di nuovo di buono di sano intendiamoci non di strano o di cattivo è un'idea che è buona ma fino a un certo punto perché sappiamo già entrambi quando sottoscriviamo quella cosa che è facile che quelle energie si esauriscano e si disperdano nel momento in cui ci lasciamo se sto dicendo cose strane mi correggete allora forse se noi dobbiamo fare un ecosistema dove dentro ci siamo tutti forse dobbiamo avere un ecosistema di governance dove ci siamo tutti dove ci riconosciamo e che è questo scusate che a me sembra mancare nel senso che in questo processo di cambiamento ci sono tanti attori diversi e ogni attore gioca un ruolo diverso senza manco confrontarsi con l'altro non è che voglia fare riferimenti al dibattito che c'è stato di stamattina che è evidentemente un esempio ma è vero che le aziende non riescono a parlare con regione o la regione non riesce a parlare con le aziende è vero che si fa fatica a portare dentro questi processi le regioni a livello nazionale è vero che si fa fatica a portare dentro il privato in questi processi di cambiamento o il contributo anche intellettuale che il privato può portare in queste situazioni dopodiché magari sviluppiamo tutto un bel progetto che cambia il mondo e ci siamo dimenticati che dentro ci devono stare pure i medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali allora anche su questo tema secondo me potrebbe valere la pena definire un ecosistema di governance dove i vari attori si riconoscono e si identificano anche riconoscendosi un ruolo in un processo di cambiamento che a questo punto non è più solo spontaneo a questo punto viene guidato all'interno di questo percorso di governance e allora se questo può avvenire forse non c'è più solo Paolo e Giorgio che partecipano ai processi di innovazione perché noi abbiamo uno spirito innovativo più spiccato di altri su questo tema del digitale altri ci lavorano su altri fronti ma diventa una cosa che progressivamente può toccare più soggetti diversi una cosa meravigliosa per me sarebbe se la tua azienda la sua azienda poteste prendere in affidamento poteste in qualche modo seguire come un tutor un'azienda sanitaria e sviluppare delle innovazioni non perché si è messi d'accordo e te ci piacciamo ma perché questo è deciso da questo ecosistema di governance che ha detto guardate c'è da fare quella roba chi è che è disposto a farla c'è questa azienda sanitaria c'è questa impresa mettiamola insieme facciamola lavorare a quel punto io riconosco il risultato e provo anche a farla diventare sistema non è complicato basta solo mettersi d'accordo e farlo Pedrelia davvero non è così complicato? anche secondo me non è complicato e bisogna mettersi lì e farlo in due almeno questo abbiamo mostrato se si può fare il dico tre cose spero brevemente ripartendo un po' da lontano stamattina è stato molto accentuato il rapporto dialettico collaborativo di difficoltà a livello centrale e questo è certamente uno dei livelli della governance poi c'è quello intermedio quello regionale di cui non abbiamo proprio parlato e mi fermo un attimo su quello locale su quello aziendale locale così come si devono parlare si sono parlati poi fuori dalla porta il direttore Mantovana e Scorza si devono anche parlare i direttori delle aziende e i DPO peccato che lì il rapporto non è più univoco ma è NDPO versus allora è mai possibile che non si lavori anche per in qualche modo uniformare un pensiero non comune perché sa un po' di blindatura ma certamente dei principi guida dei criteri ispiratori non è possibile che qualcuno che viene chiamato come consulente sostanzialmente a entrare in azienda poi determini la completa paralisi di quell'azienda rispetto a un parere certamente illuminato ma certamente anche discrezionale allora io credo che sia necessario lavorare per andare verso una uniformatizzazione non informatizzazione delle regole di ingaggio e delle interpretazioni l'avvocato ci diceva le leggi sono le leggi e poi ognuno le interpreta a suo modo e beh insomma è un po' troppo lasco rispetto al fatto che poi noi ci troviamo rispetto a quell'interpretazione completamente fermi o comunque con un bel bagaglio di tempo da impegnare per poterne uscire quando ci si riesce prima considerazione seconda considerazione devo fare i complimenti pubblici non l'avevo visto prima se non l'avrei detto a Paolo Colli Franzone perché perlomeno pagargli le royalties perché io ho copiato dal suo libro l'ultimo che ho letto grande libro piacevolissimo utile ma ho copiato varie cose tra cui una che voglio citare il responsabile clinico della trasformazione digitale ahimè lui l'ha fatto poi l'ha esplicitato io ho cercato di rifarlo a mia volta e credo che sia un'esperienza interessantissima non è il responsabile ICT il detentore della responsabilità della trasformazione digitale sono piccole cose già fatte e quindi non da me o da Giorgio questa volta da Paolo che però possono essere utili anche ad altri in questa trasduzione in questo trasferimento non tecnologico proprio di saperi si può crescere tutti terza cosa le partnership pubblico privato ora qui io finora ho parlato e sono stato invitato come direttore quindi ho parlato come direttore ma non posso non citare Fiaso e il mio ruolo in Fiaso da vicepresidente Vicario dove abbiamo per almeno questi due anni lavorato intensamente per promuovere la cultura della partnership pubblico privato tra i direttori generali grazie anche alla collaborazione delle industrie perché c'è bisogno per poter fare le cose prima di tutto di farle conoscere informare e poi di usarle senza troppi come dire retropensieri paure recondite pregiudizi certo è complicato ma se si passa da questo percorso si può fare noi abbiamo fatto un itinerario nel corso del 2023 che ha coinvolto oltre 150 quindi non due oltre 150 direttori generali in vari step a capire che cos'è una partnership pubblico privato a come si usa e a vedere esperienze di buona pratica già fatte che potevano essere in qualche modo mutuate concludo così è e soprattutto così sarà per il discorso della sanità digitale stiamo ragionando con farmindustria proprio in questi giorni e con confindustria di positivi medici per fare un itinerario simile e quindi dico alle industrie questo è già un terreno dove ci potremo ritrovare perché vorremmo fare proprio esattamente questo in particolare sulle DTX in particolare sui regolatori in particolare l'abbiamo fatto sulla ricerca clinica che non si capisce perché debba stare solo negli IRCS o negli ospedali universitari perché invece come dire è quantomeno utile che si allarghi a tutte le compagini che sono operative per arrivare anche a usare come suggeriva Pompiglio il discorso dell'uso di ciò che sono i contenuti degli strumenti dei registri che possono aiutarci insieme a dei soldi in più per poter tradurre l'innovazione al letto del malato insomma tutto questo è possibile sì ottimisticamente se lo facciamo insieme ed è l'ultima parola d'ordine abbiamo detto tutto il giorno condivisione contaminazione collaborazione insieme resta la parola d'ordine per poter riuscire a provarci almeno a fare le cose ma siamo convinti che se ci proviamo qualcosa facciamo allora abbiamo tu mi confermi che arriva alle 5 e mezza Benifei più o meno più o meno 5 e mezza va bene allora quindi abbiamo un'ultima mezz'oretta che visto che ok grazie che visto che siamo siamo in tanti se basterà per un per un giro solo quando si parla di tecnologie digitali soprattutto appunto quando si di tecnologie in genere ma in particolare quando si parla di tecnologie digitali quando si parla di applicazione di quelle tecnologie in settori che sono tra i più svariati uno dei problemi di cui si parla sempre è la carenza di competenze cioè il fatto che non ci siano competenze né per svilupparle sia di sviluppare proprio le tecnologie a volte per quanto riguarda le imprese italiane ma a volte anche per implementarle poi all'interno delle aziende che in qualche modo comprano tecnologia io volevo sapere da voi se è un problema che riscontrate anche in quello di cui stiamo parlando quindi digitalizzazione della sanità e se è l'unico o il principale problema o ce ne sono o ce ne sono altri allora non lo so come ricominciamo Coli Franzone ricominciamo da lei sì poi siccome hai capito che sono indisciplinato prima di rispondere alla domanda rispondi a un'altra per un prossimo convegno perché ci ho fatto caso e fino adesso e sono passate già parecchie ore non è mai stata detta una cosa rispetto al mondo del digitale in particolare l'intelligenza artificiale dispositivo medico la certificazione dispositivo medico attenzione ci stiamo rischiando di perdere un pezzo importante che tra l'altro ci garantisce su tante cose come la qualità la proprietà eccetera ritorno disciplinato sai cos'è è un di nuovo a proposito di ecosistema e di parlarsi e di cooperare le competenze ci sono il fatto è che ciascuno c'era un pezzetto a casa allora ci si trova tutti in uno stanzone e ciascuno racconta il suo pezzo e si mettono insieme le competenze perché quello che manca esattamente questo è qualcuno che ha la visione del tutto anche perché è un tutto che non è ancora sufficientemente così ben delineato non è che tutti sappiamo tutto quello che dobbiamo fare perché poi le tecnologie cambiano è sempre una continua evoluzione quindi è questo di nuovo cioè metterci insieme e scambiarci competenze per creare un qualcosa un'entità polimorfica a questo punto che sappia tutto cioè il principio di enciclopedia Bivini visto che lei prima ha anche accennato al fatto a programmi che state facendo in tal senso sulle competenze intendevo sì sicuramente il tema come ha giustamente ribadito il dottor Petralia della informazione formazione è un tema cruciale soprattutto quando parliamo di un ambito così nuovo e così complesso come quello della digitalizzazione e dell'innovazione digitale e quindi questo secondo me è una delle principali sfide che ha il sistema e la possiamo affrontare solamente tramite appunto la collaborazione tra tutte le parti oltre a tutti gli altri aspetti che abbiamo visto c'è anche per quello che riguarda i DTX i digital therapeutics e ancora non ci sono delle linee guida chiarissime riguardo dalla loro regolamentazione al loro utilizzo quindi c'è anche sicuramente tanto da fare in questa direzione però io credo che il primo passo sia appunto quello culturale anche per quello che riguarda l'intelligenza artificiale di capire come dicevo prima qual è quella frontiera tecnologica sul quale ci dobbiamo muovere per appunto incrementare al massimo la sinergia tra macchina e umano adesso si sta parlando anche tanto gli approcci cyborg che sembrano un po' cose fantascientifiche però l'approccio cyborg è quello di un essere umano che quando approccia l'intelligenza artificiale sa esattamente quali sono i limiti dello strumento e sa utilizzare al meglio le sue caratteristiche quindi sa quando subentrare l'uomo e sa quando invece delegare l'intelligenza artificiale quindi secondo me c'è tanto da fare in questa direzione e assolutamente dobbiamo farlo insieme grazie Orsini non lo aspettavo no allora dal punto di vista delle competenze come diceva anche stamattina il nostro general manager stiamo facendo un grossissimo sforzo come azienda per trainare anche le nostre persone avvicinarle sempre di più a conoscere utilizzare i nuovi mezzi digitali è chiaro che questo non questo non basta direi che al di là di quelle che sono le competenze che si imparano un pochettino e studiando applicandosi quello che mi verrebbe da dire è che c'è bisogno almeno parlo per noi di avere delle persone che siano un po' più capaci di leggere quello che sta accadendo in questo momento qualcuno prima diceva che forse in cinque anni questi cinque anni hanno avuto un peso di 500 quindi abbiamo bisogno di persone che abbiano questa capacità di lettura di persone che siano anche molto flessibili ecco quindi capaci di adattarsi a questo momento di grande cambiamento queste non sono competenze sono un po' è un po' altro e poi abbiamo bisogno di questa cosa che diceva anche prima Giuseppe di imparare a lavorare di più in team e quindi a sfruttare insieme anche come aziende lo dico perché spesso è difficile anche fra noi non solo collaborare mettere insieme più enti ma anche mettere insieme più aziende per portare avanti dei progetti e quindi credo che al di là di questo sforzo di aumentare le competenze ci sia bisogno di cambiare molto le nostre teste cominciando da me e poi a seguire tutti gli altri ecco bene grazie Pompilio competenze o anche quali sono gli altri ostacoli alcuni ne abbiamo anche accennato scorso è stato evocato più volte anche questo pomeriggio quindi la gestione del dado ma quali sono eventualmente le altre difficoltà io penso che l'identità delle aziende dell'industria del farmaco è un'identità chiara sicuramente deve essere un po' più centrata con un mondo con un contesto con un environment che sta cambiando quella personalmente non la chiamo una competenza cioè ti devi adeguare a un mondo che cambia quindi deve essere in grado di recepire relazionarti con un contesto in cui il digitale ricorre e quindi tutte le aziende stanno facendo attività come quelle che sono state riportate stamattina da Massimo Grandi da adesso da Manuela eccetera quindi su quello tutti ci stiamo lavorando personalmente non la ritengo una competenza più un obbligo formativo all'interno delle aziende e condivido il concetto proprio di cambio culturale torno ad esprimere l'elemento concreto l'elemento pratico e cioè quello di cercare di lavorare come suggerì il dottor Casati nella codifica identificazione di un framework amministrativo e operativo che probabilmente potrebbe facilitare la connessione di tutte quelle che sono le parti all'interno dell'ecosistema questo è quello su cui poi ci andiamo a incastrare tutti perché diventano i motivi di rallentamenti i motivi per cui un'enfasi iniziale si spegne dopo sei mesi anche perché l'elemento di cui stiamo parlando è un elemento che ha una durata a una vita breve quindi un'idea digitale di oggi fra sei mesi diventa un'idea che non ha più senso praticarla e quindi se non si è già lavorato nel far sì che l'eventuale formula di accordo sia già facile da attuare e a quel punto questo significa non far nulla e quindi torna a ringraziare chi invece in questo ci ha aiutato fino ad oggi e che magari ci mette nelle condizioni di ampliare un po' la pletora dei sapiens scusami giusto integro se me lo consenti Giuseppe no cioè questo finché tu ti concentri sullo strumento hai ragione perché se vuoi implementare uno strumento e vedere che effetto che fa come diceva la canzone hai perfettamente ragione cioè il rischio è che noi stiamo qui è tempo che ci siamo messi d'accordo lo strumento è cambiato bisogna implementare un altro ma se tu lavori sui fondamentali cioè lavori sui modelli di servizio gli strumenti cambiano per forza nel tempo ma quello che rimane è come tu vai a riprogettare i modelli di servizio allora bisogna secondo me poi è un punto di vista per l'amor del cielo valido quanto altri lavorare un po' sul in questo ecosistema che si potrebbe andare a realizzare un po' sugli oggetti rispetto ai quali costruire delle partnership e quindi anche sulle modalità e quindi chi fa parte di questo ecosistema e come si arriva a fare in modo che si possa sviluppare quell'azione congiunta tra più attori in quel determinato luogo in quel determinato momento secondo me abbiamo delle energie pazzesche da mettere a terra e lasciarle andare via così io mi sembra un sacrificio assurdo veramente assurdo quindi non è un problema di competenza perché poi le competenze ci sono le competenze in conto sono le attitudini ma le competenze le troviamo esistono se non esistono nella mia azienda o nella sua le troviamo l'importante è che si possano ricercare le competenze si trovano il problema è trovare il contenitore la modalità con cui questo può diventare realtà è ovvio che noi lo possiamo fare one to one quindi Paolo con il partner che lo vanno a contattare o che lui contatta lo stesso per me quello che è oggi complicato è fare in modo che questo queste energie diventano energie di sistema e non di chi ha lo spirito dell'innovatore perché abbiamo bisogno di più no? cioè non è che un cittadino è fortunato sfortunato secondo che in quell'azienda si è diretto da un innovatore o non innovatore stiamo scherzando no? quindi abbiamo bisogno di qualche cosa di un pochino di più ecco rispetto a quello che abbiamo oggi siamo agli inizi e va costruito questo ecosistema che non è un ecosistema che si esaurisce col PNRR intendiamoci sono assolutamente d'accordo noi l'innovazione l'avremo sempre e allora se troviamo oggi delle soluzioni ci manca quel senso di urgenza che avevamo col Covid ci manca quel senso d'urgenza perché se non l'avremmo trovato è il paradosso però vuol dire che non siamo maturi come la mia domanda rispetto alle competenze insomma accolgo con con piacere l'ottimismo del fatto che si trovano le competenze perché quando si parla molto spesso con le aziende invece che fanno tecnologia o che o che devono implementare digitale uno dei problemi nel nostro paese è quello che non si trovano le competenze proprio a colpi da decine di migliaia voglio dire posti di lavoro che potrebbero essere occupati e che non si trovano non si trova personale adatto a sviluppare quelle tecnologie ancora una volta cioè o noi non abbiamo proprio le figure cioè il mercato non le non le produce il mercato del lavoro non le produce e allora bisogna bisogna fare un altro tipo di operazione ma io non ci credo cioè il mercato le produce perché se c'è qualcuno che ci lavora e l'innovazione la fa vuoi nell'impresa vuoi nell'azienda sanitaria vuol dire che le competenze ci sono allora se il problema è quello di renderle maggiormente disponibili ancora una volta di quel famoso ecosistema della capacità di parlarsi non so se riesco a spiegarmi perché se lo stesso ragionamento che si è sviluppato oggi tra Agenas e il garante si fosse sviluppato che ne so in merito alla capacità di introdurre degli applicativi digitali sofisticati all'interno delle aziende sanitarie con regione poi uno dice ma guarda che io ho un ingegnere solo dirigente per un'azienda che serve un milione e trecento mila abitanti e che ha 2,8 miliardi di bilancio da gestire un dirigente informatico solo allora non è che non ci siano le competenze allora dobbiamo un attimo parlarci e dire per fare queste cose quanti ne abbiamo bisogno in un'azienda che ha queste caratteristiche 10 5 2 1 e quindi poi si lavora su questo ecco non è possibile poi che arrivi la regola del piano di rientro che ti dice che non puoi superare il costo del personale del 2004 o meno il 4% cioè siamo nell'epoca del medioevo così forse dobbiamo uscire dal medioevo no poi probabilmente la cosa che dicevi sulle competenze vuoi dire qualcosa su medioevo no no vai vai no Paolo Paolo a te a te no 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 dicevo di tutti facevi prima riferimento dire aziende che dicono quindi fondatori produttori tecnologie una cosa che è sicuramente vera è mercato del digital faremo i soldi così è facile capire il mercato della sanità digitale prima del PNRR valeva poco più di un miliardo e mezzo all'anno di spesa compreso l'hardware compreso post PNRR cioè proiettato a 2025 2026 quindi in conclusione PNRR sarà praticamente raddoppiato le aziende erano staffate sul mercato precedente quindi adesso avevano bisogno di tantissime persone in più peccato che quelli bravi bravi sono andati all'estero esattamente come hanno fatto gli infermieri i medici semplicemente perché li pagano in Olanda lo pagano il tribo a parità di datore di lavoro intanto quelli bravi sono scappati altri si sono cercati altri settori proprio perché non c'era domanda quindi c'è stato questo picco di domanda che in effetti crea un problema tanto che le aziende adesso i fornitori adesso si stanno scippando le persone uno con l'altro per far fronte alle commesse che man mano acquisiscono Borghini prego vorrei fare una ripressione sul tema della formazione perché adesso negli ultimi interventi si parla di formazione ma si parla molto spesso sono usciti fuori figure informatiche che gestiscono tutta la parte di ICT di un'azienda o comunque personale più tecnico di questo tipo che ovviamente è una parte del personale che si occupa di questo ma fondamentale diciamo poi per utilizzare questi servizi digitali è la formazione a mio avviso del personale sanitario primis e dell'utenza che potenzialmente potrebbe essere chiunque quindi quando si parla di formazione qualcuno prima ha parlato di cambiamento culturale che secondo me è quello che uno deve tener conto quando si parla di questi aspetti perché noi oggi non dobbiamo pensare solo alla formazione all'utilizzo del particolare software o del far sì che le tecnologie digitali si integrino nei percorsi di cura sia a lato professionista sanitario quindi parliamo di medici infermieri e tutti gli altri professionisti sanitari e su questo vorrei fare un inciso e cioè che oggi nella formazione di queste figure non si parla e non ci sono percorsi nemmeno corsi specifici per utilizzare questi queste infrastrutture diciamo questi servizi questa tutta la parte digitalizzazione innovazione nei percorsi di cura quindi oggi c'è il corso di farmacologia ma non si parla assolutamente di niente che è associato al digital therapeutics o all'utilizzo di tecnologie sanitarie per curare e quindi tantomeno di tutte le problematiche relative ai dispositivi che si basano anche sull'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e questo sicuramente è un tema fondamentale che andrà affrontato e quindi integrato nella formazione del personale sanitario tanto medico tanto del comparto ma c'è anche tutto il tema come dicevo prima della formazione dell'utenza quindi tutti noi noi diciamo siamo del settore quindi per noi è più facile ma pensiamo ai cittadini comuni che non hanno un'astrazione sanitaria tantomeno un'astrazione diciamo informatica che devono utilizzare questi strumenti sia per diciamo collegarsi al servizio sanitario nazionale oppure per avere dei diciamo delle prestazioni da remoto è importante che anche su questa parte di popolazione si faccia una formazione che a sua volta però deve essere adeguata perché dobbiamo fornire le spiegazioni dobbiamo mettere in condizione anche per tutta la questione del consenso dobbiamo mettere in condizione la popolazione che non è tecnica di comprendere come funzionano queste tecnologie e di utilizzarle quindi per questo dico un cambiamento culturale è quello che a cui dobbiamo puntare a seguito di diciamo campagne di comunicazione formazione a 360 gradi su tutta la popolazione tanto sanitaria che non quindi a livello nazionale questa diciamo questi aspetti si conoscono e si sta lavorando anche in questo in questo diciamo in questi ambiti sono d'accordissimo sul fatto che sia la prospettiva culturale la chiave di prospettiva appunto di unificazione no della di questo ragionamento e culturale nel senso più nobile del termine quindi anche le competenze cosa sono sono il sapere tecnico sono il sapere operativo o sono la capacità di interpretare e quindi di dedurre dal dato di realtà poi quello che ne consegue sul piano dell'azione mi chiedo questo perché l'alfabetizzazione informatica tutti convergono che non sia il problema tanto più oggi che il digitale è autoapprendente nel senso che non richiede grossi sforzi non so se sapete dalle tantissime indagini non ho seguito nell'anno scorso quattro che survey per cui andare a vedere come sta la situazione del 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 e alla fine quasi tutte divergono su moltissimo su alcune cose però convergono uno che gli anziani sono i più bravi nel punto di vista dell'utilizzo dei device allora di cosa ci dobbiamo preoccupare ci dobbiamo preoccupare ci dobbiamo preoccupare probabilmente della dimensione io prima l'ho chiamata e-leadership cioè del pensiero digitale della capacità di accompagnare a trasformare l'approccio al digitale proprio nella sua dimensione più complessiva più alta prima che nell'attuazione operativa è un po' come in sala operatoria il chirurgo che non è che ha bisogno di una chissà quale formazione chirurgica dopo che hai vent'anni che lo fa però ha bisogno dello specialist che gli insegna a usare la macchina perché di quello lui non sa nulla è il contrario ma quella macchina lui la inquadra poi l'utilizzo di quella macchina la inquadra in tutto il suo sapere di cui non ha bisogno per cui non ha bisogno dello specialist allora in questo ragionamento competenze un tempo si diceva multidisciplinari poi si è passati a dire interdisciplinari adesso si dice transdisciplinari e il significato ancora una volta delle parole però ci accompagna perché è evidente che la contaminazione vuol dire proprio superare l'accostamento superare anche l'integrazione quando non è solo interazione ma è integrazione ma superarla addirittura con come dire lo scavalcamento la cross attività tra un sapere e l'altro in questo vado al concreto mi pare che ci possa essere una risposta è stato detto stamattina lo ripeto io su un altro profilo bisognerà è stato detto stamattina bisogna anticipare piuttosto che seguire la richiesta no? Allora sulla privacy non aspettiamo di avere il prodotto per poi capire come bisogna affrontarlo dal punto di vista del rispetto del gbdr ma facciamo il lavoro prima chiediamoci prima quali sono le condizioni da rispettare per poter essere conformi se questa stessa cosa la immaginate per esempio sul piano dell'etica e gli eticisti chiedono a gran voce di sedere al tavolo prima della pianificazione progettuale e non dopo quando poi si pone il dilemma etico del dire allora adesso come facciamo perché se in questa logica la transdisciplinarietà funziona noi abbiamo anticipando messo le condizioni di fare un lavoro insieme di farlo trasferendo competenze nel senso nobile del termine culturale del termine e quindi facilitando poi quello che è il lavoro comune è un modo quello che è classico per esempio dei comitati di bioetica dopo perché lì ti siedi ti pongono al problema ma il problema si è già posto ma è un modo per cercare di anticipare come si suol dire il futuro per non essere in ritardo col presente potrebbe essere una come dire una prospettiva con cui verificare se riusciamo in qualche modo piccolo semplice a tradurre questa opinione della trasformazione culturale come driver in realtà operativa semplice concreta quotidiana bene grazie grazie a tutti grazie a tutti